Arrenditi, Papillon! Non hai più nessun posto in cui scappare? Sei pronta, Ladybug? Sono nata pronta! Pensate davvero di potermi battere? Oh oh, sembra che questa volta abbiamo sbagliato! Per favore, non farci del male, Papillon! Ti soffrechiamo! Oh, assolutamente no! Non avrò pietà! Chanoir, ho una novità per te! Cosa? Diventerò papà? Esatto! Oh, questo è tutto! Preparati, Papillon! Oh oh! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, il mio stomaco! Finalmente vedremo com'è il nostro bambino! È così emozionante! Ciao, iniziamo l'esame! Bene, bene, cosa abbiamo qui? Cici, wow! Ciao, tesoro! Non preoccuparti, presto incontrerai mamma e papà! Che dolce bambino! Bene, è ora di cena! Oh, che carina! Ehi, cosa ne è successo? Non ne ho idea! Oh no, è il segnale! Muoviamoci! Ehi, aspettami! Lo sai che non riesco a tenere il passo? Bene, ce l'abbiamo fatta! Chi potrebbe aver bisogno del nostro aiuto qui? Sì, questo posto mi fa venire i brividi! È così brutto! Ah! Ok, ho preparato il mio yo-yo! Ok, Ladybug, seguimi! Ah! C'è qualcuno laggiù! È un'altra delle trappole di Papillon! Beh, c'è solo un modo per scoprirlo! Mercoledì, Adams! Ciao! Congratulazioni per la gravidanza! È una sorpresa per noi! Esatto! Hai indovinato! Adesso aspetta, devo far esplodere questa cosa! Allora, quindi? Muoviti, bad boy! Solo un momento! E quanto tempo ci metterai? Ciao, gattina! Oh sì, questo travestimento sarà perfetto! Questi ragazzi rimarranno scioccati! Non preoccuparti, bad boy! Possiamo fare anche senza fuochi d'artificio! Allora, chi ha voglia di torta? Oh, stavo proprio pensando di mangiare qualcosa di dolce! Allora, cosa stiamo aspettando? Prendiamoci una bella fetta! Beh, andiamo! Cosa stai aspettando? Oh, mi sono appena ricordato di averne un altro! Ottimo! Oh no! Tutto tranne questo! Ops! Non preoccupatevi, sto bene! Cosa diavolo era quello? Beh, sapete, devo andare! Tutti si comporta in modo strano oggi! Bene, riprendiamo da dove c'eravamo interrotti! Lo so, zio Dracula! È stato così umiliante! Ed è per questo che devo pensare a un nuovo piano! Rapiro al Ladybug! È destinato a funzionare! Prendiamo della corda, leghiamo Ladybug e mangiamo! Oh, sono un genio! Benvenuti al nostro corso per genitori! La prima cosa che imparerete è come cambiare i pannolini! Ecco i nostri preziosi bambini! Eh, assolutamente no! È troppo per me! Che puzza! Grazie mille, ma ce ne andiamo! Ehi, tornate qui immediatamente! Cambiare i pannolini è davvero molto semplice! Tutto ciò che serve sono un paio di movimenti delicati e... Tadà! Abbiamo un bambino pulito e felice! Ora facciamo provare il chanoir! Sono pronto! È ora di indossare il respiratore e qualche protezione extra! Per ogni evenienza! Andiamo! Sei sicuro di farcela, tesoro? Sì, lo sono sicuramente! Non funziona! Il pannolino è bloccato! Questo è molto poco professionale da parte tua! Ciao, vi sono mancata! Oh! Beh, è stato imbarazzante! Cosa? È un pannolino sporco! Bene, facciamo un altro tentativo! Ok! Va bene, tesoro! Lascia che me ne occupio! Aha! Un mappamondo, proprio ciò di cui ho bisogno! Perfetto! Adesso ci sei, Ladybug! E ecco qua! Cici, wow! Wow! Adesso tieni il bambino per un po'. Ciao a tutti! Scusate, sono nuova! Oh, è meraviglioso! Torno tra un attimo! Oh! Visto? Stai andando alla grande! Wow! Ehi! Sai già come chiamerai il tuo bambino? Oh, dammi un momento per pensare! Hmm... No! No, non lo so! Qualcuno mi aiuti! Calmati, tesoro! Oh! Devo fasciare il bambino di nuovo! Ehi! Dove sono andati tutti? Potete aiutarmi! Sapete dove è scappata Ladybug? Oh no! È stata rapita da una vampira! Grazie per il suggerimento! Hmm... Dove sono? Cosa sta succedendo? Questo posto è così strano! Bene, bene! Sembra che io sia finita nella tana di una vampira! Wow! L'hai capito in fretta! Stai zitta e smettila di fare rumore! Ora è il momento di mangiare! Ah! Non sei altro che guai! Ciao, tesoro! Nom, 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 nom! Fermali! Prova a prendermi! Ocean One! Sai, ho davvero fame! Sbrighiamoci e andiamo via di qui! Oh mio eroe! Mi hai salvata! Ehi, cos'è stato? No! Ok, basta perdere tempo! Voglio il sangue! Prendi questo mostro! Hmm... Non farmi ridere! Ah, che male! Vattene da qui! Riesci a crederci? Mi ha morsa! L'ho fatto! Ed è stato delizioso! Ciao a tutti! Abbiamo bisogno del vostro aiuto per riavvolgere il tempo! Dobbiamo prevenire questa tragedia! Grazie! Grazie mille! Hmm... Ah, mancata! Gnam! Oh, mi stai prendendo in giro? Allontanati da noi! Riesci a crederci! Mi ha morsa! Oh, come ha osato posare un dito sulla mia bambina! Ehi, andiamo! Non c'è bisogno di arrabbiarsi! Oh, oh! Ehi, mamma! Dovremmo muoverci! Devo solo mantenere la calma! Ah! Aspetta, tesoro! Chi porti in ospedale? Voi due siete esilaranti! Hmm... Hmm... Cosa? Ehi, aspettami! Oh, non è la più carina del mondo! Ehi, qualcuno mi aiuti! Oh, è terribile! Hmm... Cosa? Oh, è una vampira? Stai lontana da me! Mi difenderò! Calmati, per favore! Rimetti l'aglio ai paletti dove li hai presi! Oh, disgustoso! Per favore, non mordermi! Devo solo fare un'ecografia! What? Hmm... Davvero? Sì, in realtà sono incinta! Oh, avresti dovuto dirlo subito! Bene, signorina vampira! Accomodati! Oh, sembra che la mia bambina stia morendo di fame! È così carina! Sai cosa fare, vero? Oh! Ah! Non è stato molto carino da parte tua! Sì, beh, la bambina piace! Wow! Grazie mille! Questa è la mia bambina! Oh, sono incinta! Oh, quei vampiri! Hmm, incredibile, Derek! Ok, ok, andrà tutto bene! Mi hai preso dei fiori, è così dolce! Ehi, che ti succede allo stomaco? Beh, sono incinta! Incinta? Va bene, va bene, sono calmo, posso superare questa cosa! Beh, me ne vado! Ehi, aspetta, lasciami spiegare! Ok, sto ascoltando! Com'è successo? Beh, ho semplicemente morso Ladybug a chi all'epoca era incinta! Sì, certo! Non ti mentirei, lo giuro! Sai che sei l'unico per me! In tal caso? Fantastico! Ti prendo qualcosa da mangiare! Meno male che ha funzionato! Sono tornato! Ecco il tuo frullato di sangue! Non credo che mi piaccia! Che ne dici di un po' di aglio? Oh, fai sul serio! Ok! Ok, torno subito! Ecco qua! Oh, ha un odore atroce! Oh, ottimo! È così buono! Bene, sono felice che ti piaccia! Penso che sarà ancora più buono con un po' di panna montata! Delizioso! Non posso credere che lo stia facendo davvero! Grazie mille, tesoro! Sei un vero eroe! Ops! Scusa! Succede a tutti, vero? Oh, Edward! Perché sei uscito al sole in quel modo? Ciao! La tua pizza è proprio qui! Oh, grazie! Uh, salsa all'aglio! Ma stai scherzando! Ma è quello che hai ordinato! Oh, non ti piacerà vedermi arrabbiata! Per favore, signorina! Lasciami in pace! È un teschio! Ehi, sveglia! È una vampira! Mi sa che sto per partorire! Oh, che male! Tagliti dai piedi! Ehi, stai attenta! Va bene, niente panico! Posso aiutarti! Mantieni la calma, signorino! Ho seguito un corso di formazione per infermiere! Non dimenticare di respirare! Dentro... E fuori! Sto respirando! Sto facendo del mio meglio! Oh, l'ho presa! Guarda! È la tua bambina! Ah! Allontanati da me! Che carina! È proprio come la sua mamma! Ehi! 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 Cosa? Sono zanne! Oh, non può succedere a me! Au! Mio Dio! Pronto sì! Abbiamo bisogno di un'ambulanza! È un'emergenza! Muovetevi! Toglietevi di mezzo! La stiamo perdendo! Resisti, piccolo pipistrello! Abbiamo bisogno di una trasfusione di sangue! Per favore, fa che non sia troppo tardi! È ora di fare la rianimazione! Uno! Due! Non morirei sotto i miei occhi! Vivi, dannazione! Vivi! Cos'è successo? Oh, grazie a Dio stai bene! Grazie, dottore! Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me! Faccio solo il mio lavoro! Finalmente è ora di pranzo! Ehi, sto mangiando! Scusa, dottore, ma è davvero urgente! Ciao! Io e Chat Noir stiamo per avere un bambino! Oh, beh, in questo caso intervengo subito! Bene, vediamo qual è la situazione! Sembra un hamburger? Mi state prendendo in giro? Scherzo esilarante, vero? Ehi, piantala di fare scherzi! Oh, mi dispiace, dottore! Ok, sono pronta! Tuo marito è un po'... Ma ok, è ora di dare un'occhiata! Sì, è un gattino sano! È così carino! Perfetto! Oh no, dottore! Sto partorendo! Proprio adesso? Andiamo, Ladybug! Ancora un po' e... Congratulazioni! Ecco il tuo bambino! Guardalo, tesoro! Non è meraviglioso! Mi assomiglia anche a papà! Che carino! Sembra che non abbiamo ancora finito! Mio Dio, ce n'è un altro! E un altro! Preparatevi per altri! Oh, oh! Rallenta, dottore! Bene, abbiamo finito! Ora pagate e andatevene! Oh, certo, dottor Tyler! Ciao! Oh, di nuovo! Davvero? Oh, non so nemmeno cosa dire! Grazie, immagino! No, no, grazie a te! Adesso ciao! Non toglierò mai quelle macchie! Dottor Tyler! Oh, entra! I miei venti! Plank, se li ammissi cappò! Allora, puoi rimetterli a posto o qualcosa del genere? Ci prego! Oh, certo! Farò del mio meglio! Apri la bocca di... Dai, Bat! Sbrigati! I pazienti, ok? Eccoci qua! Quanto tempo ci vorrà! Muoviti! Quasi finito! Perfetto! Wow, grazie mille! Felice di aiutarti! Adesso buona giornata e non perderli più! Oh, finalmente! Mi sei mancato tanto! Ora facciamolo! Cavolo, sono in forma oggi, eh? Oh! Batboy! Io sono la notte in persona! Sì, dovrò lavorare parecchio per sistemare questo! Dottore, sei un vero truccasana! Oh, il mio naso! Mi dispiace! Dottore, aiutami! No! Adesso tocca a me! Oh, va bene! Qual è il problema? E' ciù! La mia allergia acida! Capisco! Oh, i miei pantaloni! Ehi, non sbirciare! Adesso va meglio! Ok, cureremo le tue allergie con un'iniezione! Un'iniezione? Non essere spaventata non farà male! Vieni qui, tesoro! Assolutamente no! Stai lontano da me, mostro! Ehi! Smetti la signorina! Cosa devo fare con te? Questo dovrebbe funzionare! La mia buona vecchia balestra non mi ha mai deluso! Perchè di il tuo bene! Ah! Oh! Sembra così! Strano! Mi sento... Stordita! Visto? Ti senti già meglio! Cici! Wow! Ora è il momento di pagare le cure! Ops! Io non pensavo così tanto! Anche se... Fermo, amico! Sborsa tutti i tuoi soldi! Ehm... Certo! Ecco è tutto quello che ho! Meraviglioso! Grazie! Mi terrò questi! E questo è il pagamento per il tuo duro lavoro! Ciao ciao! Bene dottore, per favore salva la vita del mio amico! Beh, prima di tutto controlliamogli il polso! Oh! Seguimi! Vedi! Lo sapevo! È in coma! Questo richiede misure drastiche! Per favore! Fai tutto quello che puoi! Carica! Beh, non ha funzionato! Allora riprovaci! È ora di provare il mio trattamento speciale! Incredibile! Sembra che Manu sia un vampiro adesso! Qualcosa è andato storto! Ah! Non è stato un atterraggio molto marbido! Non posso dire di invidiarti! Dobbiamo estrarre quella scheggia gigantesca! Beh, lascia fare a me! Assolutamente no! Sono io il dottore! Ma è il mio amico! Perché non ci dici nei commenti quale trattamento ritieni sia il migliore? Quello di mercoledì o quello del dottor Tyler? Comunque, cosa c'è di così spaventoso nelle asce? Non ho parole! Va bene amico, ti aiuterò! Estrattore di scheggia azionato! Ma proprio ciò di cui abbiamo bisogno! Ta-da! Niente più schegge! Adesso vai e stai lontano dai guai! Avanti, Manu! Ti riporto a casa! Sembra che abbiamo una nuova paziente! Ciao, dottore! Io non riesco a vedere nulla! Non importa quanto ci provi! Oh, continuano ad arrivare! Va bene, guarda qui! Riesci a vedere il numero? Cosa? Oh, è quattro, vero? Sì, è anche peggio di quanto pensassi! Mi stai prendendo in giro? Oh, aspetta un attimo! Dottore, dove sei andato? Stiamo giocando a nascondino? Pronto, Noi! Arriva! Eccoci qua! Come nuovi! Di nuovo, davvero! Facciamo una radiografia! Una frattura della coda! Dovremmo mettere il gesso! Grazie, dottore! Ma per quanto riguarda la vista? Prova queste lenti a contatto! Beh, puoi vedermi adesso? Quante dita sto mostrando? Oh! Tre! Finalmente ci vedo! Bene, allora vai là fuori e goditi il panorama! Buona fortuna! Dottore Barbie ha urgentemente bisogno del tuo aiuto! Tu sei la nostra unica speranza! Beh... Dobbiamo agire in fretta! Barbie ha bisogno di un intervento chirurgico salvavita! Prima di tutto puliremo tutto lo sporco! Quindi incolleremo tutte le parti mancanti! Barbicina! Oh sì! Poverina, ne ha passate tante! Ma non preoccuparti! Ora è in buone mani! Come ultimo dettaglio sistemeremo la sua bellissima acconciatura! Barbie è tornata! Più carina che mai! Oh! What? Ciao Barbie! Ciao Ken! L'ospedale dei vampiri ti ringrazia per il tuo patrocinio! Sei il migliore, dottore! Arrivederci! Non posso più sopportarlo! Oh, ciao! Dottore, devi aiutarmi! Ho prurito dappertutto! Ehi, attenta Kitty! Per favore, fai qualcosa! Ok, ok, stai calma! Oh, deve esserci una cura! Oh! Oh, cielo! Oh, ecco qua! Molto meglio! Ok, basta, smettila! Cosa? Io ascolto e obbedisco! Fantastico, ora vediamo con cosa abbiamo a che fare! Oh, disgustoso! Non ti libererai mai di me! Ehi, giù le mani! Oh, mi ha morso! Ok, questo spray dovrebbe aiutarci! Oh sì, eccomi qui! Andiamo a non essere timida! Aiuto! Mi sento svegliere! Svegliati! Come ti senti? Wow! Oh, benissimo! Non ho più prurito! Fantastico, allora paga! Oh, sei un vero eroe, dottore! Ehi, i miei soldi! Oh, oh! Devo andare in bagno! Torno tra un minuto! Oh! Ah! Finalmente! Ehi, dottore! Puoi aiutarmi? Cosa c'è questa volta? Aiuto! Oh, va bene! Ammai gli estremi, estremi rimedi! Tieni duro, amico! Eh, abbiamo quasi finito! Oh! Posso muovermi di nuovo! Oh, dottore, grazie mille! Oh, non c'è bisogno di ringraziarmi! Cavolo, che giornata! Ehi, che schifo! Beh, sembra che non ci siano più pazienti oggi! E questo significa che finalmente posso divertirmi un po'! Oh, che bel modo di iniziare la giornata! Dottore! Ma che... Eh, voglio dire, come posso aiutarti? Ho bisogno del tuo aiuto, dottore! Sono diventata completamente sorda! Questo è il mio territorio adesso! Non mettete piede qui! Non preoccuparti, signorina! Risolveremo questo problema in pochissimo tempo! Sei sicuro che non farà male? Oh, sì! Il verde non passa mai di moda! Chi c'è? Ehi, non sbirciare! Cosa abbiamo qui? Oh, non ci posso credere! Meno male che so cosa fare! Ho bisogno che tu stia ferma, tesoro! È ora di fare un po' di pulizia invasiva! Mi occupo io del caso! Arredditi, cattivo! Stai lontana da me! Non preoccuparti, mi prenderò cura di te! Oh! Bene, è ora di andare! Visto? Non ha fatto male per niente, vero? Oh, dottore, sei fantastico! Oh, la gratitudine si esprime meglio con i contanti! Ho giusto un secondo! Eh, certo che ti pagherò! Avevo un po' di soldi qui! Cosa è? Ops! Non sono qui! Magari ti accontenti di un hamburger? Assolutamente no! Sarebbe una tortura per le mie zanne! Ok, come preferisci! Mmm, squisito! Oh, oh! Il mio stomaco fa male! Prendi questo! Vediamo se ti piace il mio tipico attacco da cibo spazzatura! Oh, dottore! Aiuto! Beh, penso di conoscere la cura! Ciò che serve è solo una piccola pillola! Ecco qua, giovane signorina! Beh, se è quello che serve! Quindi hai mal di pancia, eh? Sistemerò il problema in un batter d'occhio! Oh, cavolo! Sono così cool! No, non lo sei! Ehi, chi sei? Prendi questo! Non me lo merito! Missione compiuta! Andrà tutto bene adesso, piccolo! Non farà più la prepotente! Oh, dottore! Sei il migliore! Sei stata tu? Ops! Mi dispiace! Lo giuro che non volevo! Oh, adorerà il prossimo! È disgustoso! Nessun apprezzamento per i miei profumi! Oh, vediamo se ti piace questo! Cosa mi sta succedendo? Oh, è terribile! Che risultato sorprendente! Devi aiutarmi, dottore! Non abbandonerai mai una paziente bisognosa! Dovrebbero funzionare! Adesso sbrigati e indossale! Sembrano piuttosto eleganti! Cosa sta succedendo qui? Meno male che ho una soluzione! Allontana quella roba! Sta rovinando la mia arte! Beh, proviamo! Oh, ha funzionato! E dopo tutto sono un professionista! Ops! Oh, sei stata tu? Anch'io voglio diventare un medico! Pensi che io abbia quello che serve? Essere un medico non è un gioco! E comunque non tornare mai più! Oh, che ragazza selvaggia! Avere a che fare con lei è stato estenuante! Ora va meglio! Bene, beviamo! Ah, AB negativo! Oh, rinfrescante! Dottore, mi fanno male i denti! Devi aiutarmi! Cosa? Di nuovo tu? Sta male! È ora di divertirsi un po'! Guarda quanto sei pulito e carino! Chi siete voi? Fermali! Non pensare di scappare! Questo è tutto per te! Sei finita! E ora è tempo di festeggiare! Uh-huh! Sì! Che cosa devo fare, dottore? Sì, la situazione non è buona! Ma possiamo risolvere! E dai! Ah! Fermo! Non mi fido più di te, dottore! Stai lontano da me! Non essere così spaventata! Stavo solo scherzando! Ciò di cui hai bisogno è il filo interdentale! Ma non voglio usare il filo interdentale! Non è bene, in tal caso! Perché non esprimi il desiderio? Ma solo se mi prometti di... Usare il filo interdentale! Certo! Bene, il tempo dei giochi è finito! Ti tiro fuori! Dolce libertà! Ma perché l'hai fatto? L'avevamo presa onestamente! Wow! Posso dare un'occhiata? Oh beh! Come vuoi! Ok! Bene, signorina! Ti sei ripresa completamente! Scusa! Devo rispondere! È il mio piccolo Bobbo! Pronto? Lori! Mi manchi! Oh! Mi manchi anche tu! A presto, amico! Devo fare qualcosa! Bobbo! Sei tu! Non hai un bell'aspetto! Oh, dottore! Devi fare qualcosa! Questo posto è così morbido e semplice! Facciamo festa! Mostrate i denti, ragazze! Vuoi che aiuti Bobbo? Dottor Gatto in soccorso! Bobbo, ora sei salvo! Questo è ciò di cui abbiamo bisogno! Adesso fai il tuo dovere! Spiacente! La festa è annullata! Cosa hai detto? Rilassatevi, cattive! Non riesco a respirare! Questo non è giusto! Siamo finite! Ottimo lavoro! Grazie, dottor Gatto! Oh! Ah! Oh! Sono stata morsa da una zecca! Ah! La cena è pronta! È ora di mangiare! Oh sì! Miammi! Oh! Cosa ho fatto per meritarmi questo? Ok! Ti aiuterò! Sei pronta? Ecco il conto, signorina! Non esiste! È troppo costoso! Se non puoi pagare, vattene! Siamo una struttura di alta classe! Oh! Non riesco proprio a credere alle persone di questi tempi! Sono sana! Finalmente sono in salute! Ehi! Non agitarti troppo! Oh no! Oh! Oh! Cos'è stato? Oh! Sei piena di sorprese oggi! Bene! Vediamo un po'! E siamo in diretta dal cuore! Come ti senti oggi? Ah! Non bene! Sono così! Esausa! Bene, signorina! Niente panico! Ah! Ecco qua! È ora di una bella pausa rilassante! Prova questo! Vuoi sdraiarti e rilassarti, eh? Allora sei dalla persona giusta! Ti farebbe davvero bene riposarti, sai? Oh sì! Mi piacerebbe! Oh grazie! È così dolce da parte tua! Guardate! Abbiamo appena assistito a un piccolo miracolo! Bene dottore! È ora che vada! Ciao ciao Lori! Uh uh! Sono finalmente libero! Tavolo! Sono bravo a fare il medico! Oh! Oh non ci vedo! Sì! Oh assolutamente no! Dottore! Dove sei? Hey! Hmm! Oh! È nuvoloso oggi! Hmm! Non riesco nemmeno a vedere l'orsa maggiore! Così non va! Sono qui Lori! Segui la mia voce! Wow! Cosa ti è successo? Per favore aiutami! Non riesco a vedere niente! Ok! Stai ferma! Ah! Sto bruciando! Hmm! Questo è tutto a causa tua Lori! Hai bisogno delle lenti! Tieni! Hmm? Hey hey! Oh finalmente! Mi farebbe davvero comodo un aiuto! Hmm! Ok! Me ne occuperò io! Stai indietro e guarda la professionista all'opera! Oh è incredibile! Sei un salvavita! Ah ah! Non c'è bisogno di ringraziarmi! Bene Lori! Come ti senti? Dottore! Finalmente ci vedo! Niente abbracci e vattene da qui! Sei il miglior dottore vampiro del mondo! Per favore vattene! Basta! Oh grazie al cielo questa giornata è finalmente finita! Oh no! Tutto tranne questo! Posso entrare dottore? Sì 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 certo! Allora qual è il problema? Non riesco più a trasformarmi in un pipistrello! Puoi aiutarmi? Hai bisogno di questo speciale elisir volante! Oh grazie! Bene! Vado! Sì sì faccio solo il mio lavoro! Essere un medico è esteluante!